Dio semina semi buoni, ma anche noi siamo seminatori. Le nostre parole possono fare tanto bene e anche tanto male. Possono guarire e possono ferire. Così Papa Francesco ha parlato della parabola del seminatore inserita nel Vangelo di questa domenica prima della recita dell'Angelus dalla finestra del suo studio che dà su piazza San Pietro. Ricordatevi, ha aggiunto, che quello che conta non è ciò che entra ma quello che esce dalla bocca e dal cuore. La parabola del seminatore, ha spiegato il Papa, ci ricorda che noi siamo il terreno dove il Signore getta instancabilmente il seme della Sua parola e del Suo amore. E noi come l'accogliamo? Com'è il nostro cuore? A quale terreno assomiglia una strada, una pietraia, un rovetto? Dipende da noi diventare terreno buono senza spine né sassi ma dissodato e coltivato con cura affinché possa portare buoni frutti per noi e per i nostri fratelli.